Passaggi di testimone, nuovi ingressi, meritati riconoscimenti. Una serata densa di iniziative per il Lions Club Varese in Subria, il più affollato in Lombardia grazie ai suoi oltre 60 iscritti e una pressoché totale partecipazione agli eventi. Nella serata di ieri spiccano le Melvin Jones, prestigiose onorificenze che prendono il nome dal fondatore e che esprimono ufficiale gratitudine a chi, grazie alla propria attività solidale, ha portato quantificabili benefici alle fasce più povere del pianeta, in particolare i bambini. Le spille sono state appuntate al petto di Graziella Miglierina, infaticabile e tenace, Elena Marella e Massimo Paolucci, generosi, iperattivi, uniti nella vita e nell'amore per il service e Danilo Guerrini Rocco, veterano lionista e, dato il bagaglio che vanta, collezionista di Melvins. Da segnalare poi la staffetta ai vertici del club, corraffinato a Lencaiola che cede la presidenza alla nuova timoniera Roberta Manfroi, momentaneamente infortunata ma destinataria di una leadership che, possiamo scommetterci, si muoverà ad ampie falcate. Infine, con la benedizione del governatore uscente Gino Ballestra, l'ingresso di tre nuovi soci, Andrea Panfili, Fulvio Rivetta e un volto noto del territorio, il sindaco di Arcisate Gianluca Cavalluzzi.